Aldo, Aldo, oggi il giorno 2 agosto 2018 ero deciso a prendere il treno al binario 7 di Milano a Porta Garibaldi, poi ero già salito ma lo hanno annullato la partenza, per cui devo vedere come andare al Lago Maggiore, perché quello andava ad Arona al binario 7 facendo diverse fermate ed arrivava ad Arona che è un paese del Lago Maggiore. Vediamo, mi do da fare per prendere un altro treno, è stata anche una fortuna, alcune volte ho messo una moneta in questa macchinetta per prendere da mangiare qualcosa o patatine o altro, una piccola moneta e sono sceso una fila intiera di patatine, non una, tutta la fila, va bene, per altre volte che sono imbrogliato metto la moneta in metro e alcune volte non esce niente perché sono rotte, oggi sono stato fortunato, mi dirigo a Pieghi verso questa bella stazione di Porta Garibaldi e prendo il treno laterale di fianco a me, è un treno nuovissimo, cioè c'è da quando c'è stata due anni fa, il 2015, la manifestazione, hanno fatto i treni nuovi per l'export, adesso sono le ore 15.10, ho di fronte l'orologio e questo qua di fianco a me parte le 15.30, però va fino a Porto Ceresio, scendo a Gallarate, poi cambio per un altro treno che va al Lago Maggiore, ecco la Milano qui, sono al piano rialzato perché i treni partono anche dal piano inferiore, anche al piano di due piani sotto i treni, quelli regionali, ora cambio direzione, ecco là il cartello ben indicativo, anzi il mio vicino così lo fotografo per vedere oggi dove vado, volevo andare al Lago Maggiore perché ieri sono stato al Lago di Garda e il Girovago quasi tutti i giorni cambia i laghi o le montagne e le valli, ora devo stare attento, non c'è nessun gradino qua, è molto comodo, hanno rifatto tutta la stazione che uno può camminare tranquillamente senza inciampare, che bella giornata c'è oggi, ecco qui che faccio l'ins, ecco noto bene, Porto Ceresio 15.32, questo treno nuovo, mi avvio, pochi minuti sono arrivato e salgo qui, immagino che c'è l'aria condizionata, speriamo che non sia però eccessiva, tutto è comodo qua, tutto neanche un gradino da fare, la mia mano, apro il bottone, risparmio energia e salgo, ecco qua il posto adatto.